Per chi ha ingaggiato contro il destino e contro la malattia una sfida personale e quotidiana, per chi le giornate, una volta messi i piedi a terra, sono ogni giorno una nuova esperienza, per chi con la forza di carattere, la caparbietà, non si fa travolgere dai sentimenti negativi, ma invece, come Nicola, affronta un percorso difficile con il sorriso tra le labbra, anche le piccole cose. L'ottenere le giuste opportunità migliorano, e di molto, la qualità della vita, rendendo la salita meno impervia e meno dolorosa. Nicola, ora tu hai un problema, no? Di che cosa si tratta? Ma si tratta di un problema che è venuto fuori ormai 3-4 anni fa, di sclerosi multipla, quindi difficoltà nel movimento e neanche tanta troppa resistenza nel fare lunghi tragitti. Tu abiti qui, siamo attaccati al cancello di casa tua, ci sono dei parcheggi, cosa desidereresti proprio per questa tua condizione? Sì, gradirei il parcheggio da disabili, quindi l'aria purtroppo è pubblica, quindi io non posso intervenire da solo, diciamo, pitturandomi e mettendo il parcheggio da disabile, ma devo chiedere al comune questa cosa. Ormai sono mesi che aspetto, quindi qualcosa ho fatto, vi ho telefonato per riuscire a, diciamo, velocizzare o a smuovere quello che per noi rimane troppo difficile. Mi avevano detto che la scorsa settimana i lavori sarebbero iniziati, non solo per me, ma anche per altri disabili, ma questo non è avvenuto. Tu lasci la macchina un po' distante da qui, per arrivare fin qui già per te è uno sforzo, quando va bene? Diciamo, no, ce la faccio, però sì, mi affatica, quindi gradirei, diciamo, visto che il cancello di casa è qua, se ho un parcheggio qua accanto, sono contento, arriva al lavoro non stanco. Ecco, già affrontare una malattia come la tua è moralmente, insomma, una bella sfida. Sarebbe bello che tutto quello che si può aggiustare attorno a te e a quelli che purtroppo sono come te andasse nel verso giusto. Non sono l'unico della lista a Fano, siamo in tanti che aspettano un parcheggio, sia per chi ha una malattia che può peggiorare o ti può far star bene, dipende anche poi se azzecchiamo la cura, oppure anche le altre persone magari che si sono rotte un arto e comunque aspettano da mesi il loro parcheggio, che comunque spero in loro che poi siano meglio, insomma, ecco, tutto qua. Grazie. 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 Grazie.